Abbattimento delle barriere, integrazione, condivisione, ma anche azione terapeutica per tutti, anche per chi la fa. Nasce così la terza edizione di Emozionarte, presentata questa mattina dal presidente della Fondazione Tercas, Mario Nuzzo. È un progetto che contiene elementi di apprendimento artistico e quindi di sviluppo della creatività individuale anche di quelli che partecipano, momenti quindi anche di piacere legati all'arte e poi anche attività di formazione, di sviluppo di abilità. Cercando di far concorrere in ciascuna di queste attività più associazioni che si occupano di disabilità, più soggetti di altre associazioni, dai boy scout alle associazioni culturali che si muovono intorno. Credo che sia un esempio importante, si collega idealmente con il progetto che abbiamo proposto per il prossimo anno, dimostrando che quel progetto è effettivamente realizzabile, proprio perché si basa su un'esperienza già fatta. Per far riflettere sulla possibilità dei vedenti di guardare oltre il visibile, così Felice Tagliaferri, artista non vedente, ha presentato la sua mostra. Io faccio lo scultore di professione e ovviamente le mie opere sono tattili perché non vedendo le mie sculture le faccio con le mani e le rendo fruibili a tutti quanti attraverso il tatto. Ora per voi che vedete può essere un lusso, per chi non vede è conoscenza, quindi diciamo che la mia opera è socialmente utile proprio perché la metto a disposizione dell'umanità, anche a chi non vede. La mia arte nasce soprattutto perché mi fa star bene a me e nella vita faccio quello che mi pare. Io facevo l'impiegato in un ente pubblico, a un certo punto ho mollato tutto per dare forma ai miei sogni, appunto quello di fare l'artista.